Siamo in Piazza Maggiore a Bologna, stiamo facendo con un micro drone delle indagini fotografiche, in particolare mirate sul Torre dell'Orologio di Palazzo d'Arcursio. Il micro drone è un piccolo velivolo, pesa meno di un chilo, ha un diametro inferiore al metro molto leggero, quindi molto facilmente governabile, può volare sia in volo programmato, quindi automatico, che manuale e noi lo stiamo portando a fare diverse missioni fotografiche, diciamo, che servono per sviluppare tutta una serie di materiali che poi verranno rielaborati a termini di fotogrammetria aerea. Piazza Maggiore a Bologna Piazza Maggiore Piazza Maggiore